Dead Trips ok ehuh stoppoli geneso rispettore Michael James un serial killer chiamato Lady Deaths donna della morte vabbè l'ultima vittima che del criminale è stata trovata in questo hotel cheap che cacchio vuol dire a buon mercato ok quindi hotel economico ok dove questo James sta investigando ah quindi James sta cercando il serial killer e sfortunatamente per l'ispettore l'omicida è ancora lì continuiamo quindi ci sarà un omicida wow che sensibilità è che gioco è ragazzi sto gioco pesa sto gioco pesa mezzo giga sto tele è carino che quadri bellissimi fiori ok ma come grafica raga ci siamo va bene la reception computer monitor vabbè mi hanno dato molto nei dettagli però vabbè è un ascensore è un horror raga vi dico questo tutto automatico ci vediamo l'ascensore mangiamo sicchia amo la vamo best e ship ecco ha iniziò romattica no 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 Abbi 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 o di più anghi Papa No, c'è un jump scare ora C'è un jump scare ora Lo so, c'è un jump scare Ragazzi, commetto tutto che c'è un jump scare ora Sì, è tutto qua Che cacchio vuol dire? No, aspettate, fatemi rientrare Non ho capito, ok Caricamento Un caricamento fa finta Era 17% Ma si può anche correre con shit Ma qual è la kid? Aspettate Guarda Che porcata è Ma cos'è sta baby shop? 3 minuti di rec No, 2 minuti Alberto Navarro, in che italiano questo? No, non ha senso Non ha senso No, 2 minuti di rec non posso, ragazzi Lo so che lo sto rifacendo più volte Ma per capire Voglio solo capire C'è un corridoio Io arrivo Si accendono le luci Arriva kid Fino di ansia all'inizio Comincia a scurrere E intappa il nuovo asco Fai diversi diversi ogni volta Mamma mia Raga, dalle foto Sembrava horror, veramente Ho detto Wow, sto gioco è bello Ma che è sta roba? Grazie per aver giocato Ma va a fan BANCO No, raga 3 minuti di rec no Io faccio 3 video a settimana Un video del genere no E uscià Raga, non so che dire Cosa dovrei dire Problemiasto questi anni Non so cosa aggiungere veramente Un video perso 500 megabyte di gioco Raga, mezzo giga Non mi trovo sta roba 3 minuti Raga Tanto non monetizzo Quindi non mi interessa Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi